Risultato negativo all'alcol test a 61 anni, dispresiano nel Trevigiano, l'autista del trenino turistico che si è rovesciato ad Eraclea Mare lungo la stazione delle Corriere in Vieli Venzuola 9. Errore umano, ammette oggi con un comunicato SAP, la ditta di autotrasporti che da 12 anni gestisce il trenino della Pineta. Errore in corso di accertamento da parte dei carabinieri di San Donai di Eraclea con il PM incaricato delle indagini Antonio Sartori che ha aperto un fascicolo in procura. Da verificare se l'incidente è accaduto per un'imperizia dell'autista di manutenzione del mezzo, ovvero a causa dell'alta velocità del trenino che può raggiungere al massimo i 25 km orari e anche per le eventuali cattive condizioni dell'asfalto visto che uno dei due vagoni si sarebbe rovesciato proprio dopo la curva attorno all'autostazione con una delle ruote venuta a contatto con un tombino. Ed è qui che si è rovesciato il trenino, ancora visibili le tracce di sangue dei 14 feriti. Dei 30 passeggeri a bordo, 3 feriti trevigiani con turisti di Padova e Milano, tra gli altri italiani contusi, tutti finiti tra i 7 in pronto soccorso a San Donà, dei 14 feriti in totale, tra cui un papà e la sua bimba di 9 anni, entrambi tedeschi, insieme ad un altro bimbo di nemmeno un anno con la sua mamma e il suo papà, anche essi stranieri e una persona disabile. Quest'ultimo con una grossa ferita insieme ad altri due anziani che hanno avuto una prognosi di 40 giorni, mentre i restanti hanno riportato ferite e contusioni fortunatamente di lieve entità. Da parte mia ho prestato subito soccorso accertandomi non vi fossero feriti gravi le prime dichiarazioni dell'autista. Il trenino ora è stato posto sotto sequestro. Per adesso il servizio è sospeso, anche perché con FAP vediamo se ripristinarlo e effettivamente è quello che andremo a concordare di fare con questo trenino. È un peccato perché è un servizio che piaceva tanto ai turisti, sia ai grandi che ai bambini.